e buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti voi oggi è giovedì 5 dicembre 2024 pomeriggio virmone carissima ciao fabio ciao chat come stai virmone come stai bene bene oggi sono con voi solo un'ora perché dopo ho una cena elegante e quindi con lele mora no no con virmina quattro e mezza cinque devo staccare meno male ma in quest'ora che passeremo insieme virmone credo che ci divertiremo molto io credo divertiremo molto ti ho passato il titolo che metteremo su youtube sul redazionale di telegram è già il titolo per l'idea che ho già secondo me dice tutto non lo spoileriamo chiaramente non lo spoileriamo ma già il titolo dice molto già il titolo dice molto dice molto anche il vostro affetto anche in questo mese di dicembre ci sono già due sabbele ringraziamo grazie mille a robie fa 34 mesi prime grazie anche al lux fa 29 mesi sempre con amazon prime grazie di cuore anche a filippo che si è abbonato prima che questa live andasse in onda bensì quattro ore fa e quindi grazie a filippo che ha condiviso l'abbonamento è giusto ringraziarlo salutiamo dualipismo andreina sì c'è la gente che ha tanto tempo libero c'è la reparta bs anche io ma noi abbiamo tanto tempo libero per commentare gente che ne ha più di più si può dire questo sicuramente sicuramente ciao slevin ciao alessio c'è andratos ciao gianca ciao volevo ricordare che la ragione di tutti i nostri problemi ovviamente l'aver venduto sulle senza di noi non possiamo giocare a calcio è evidente ciao simoz comunque per capire quanto stagione sia maledetta basta analizzare la situazione del siti avevano sette o titolari fuori vero ora torto rodri li hanno recuperati tutti il siti e riprese la prossima settimana passeggerano sopra la nostra cassa questo non lo so però ieri firmone giusto per parlare 30 secondi oggi parleremo solamente 30 secondi di calcio e ve lo dico ieri ho visto diretta gol premier league perché su sky perché la davano in contemporanea 3 4 5 partite e devo dirti che con i ritmi della premier league diretta gol era figata incredibile immagino è una roba pazzesca newcastle liverpool è stata la partita più bella che abbia visto quest'anno oltre a juve a inter juve veramente molto 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 divertente quindi mi sono molto divertito ieri sera ciao tu riduz ciao forza juve ciao grazie siamo una tifoseria finita ciao ad antonino messina che mi ricorda è lo sponsor team 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 c'era mina che faceva una volta è lo sponsor della team va bene intanto è stato arrestato ma veramente si arrestato no dio vabbè lasciamo stare dai lasciamo stare lasciamo stare la buttiamo in ironia su altre cose mettiamola così ciao cfcf ciao scarrafone ciao senniuk noi non abbiamo qualcuno che deve fare marchette per il libro in realtà non abbiamo fatto la marchetta no 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 non siete cattivi abbiamo fatto un editoriale l'ha fatto alex su buffon ovviamente la gente non guarda il contenuto vede solo il titolo non sta andando benissimo però recuperatelo che è bello ragazzi recuperatelo e che cazzo porca miseria ciao arstan ciao guglielmo ciao ad andrei in ancora e terzino tutto campista scusate devo cambiare piano telefonico del cellulare cosa mi consigliate la forza delle connessioni ovviamente diceva ok aspetta birmo birmore mi ha lasciato un attimino io ora una parte non sto scherzando io team a casa e con i cellulari e quindi mamma mi trovo abbastanza bene perché poi c'è il pacchetto per da zone tu hai dei consigli su quale su quale piano telefonico attivare per il signor terzino tutto campista ma guarda io sono uno che fa poca attenzione a queste cose in realtà perché sono molto distratto cioè io ho ancora un piano della team che probabilmente con qualsiasi altro operatore pagherei un terzo per i servizi che ho però sono pigro e quindi sono ancora fermo mi ricordo una cosa che tu sono un pochino ma alla fine ti sei messo la fibra no perché come ti ho detto cambierò casa cambierò casa quindi quando non ha senso mettere la fibra adesso cambierò casa la metteremo in quella nuova qua io qua qua è successa una cosa molto buffa qualche mese fa cioè faccio veloce praticamente noi come adsl abbiamo vodafone e gli operatori chiamavano virmina mettete la fibra mettete la fibra siete coperti mettete la fibra mettete la fibra va bene un giorno abbiamo fatto venire qua i due i due operai per per mettere la fibra vengono qua tirano tirano tutti i fili tutte le robe vanno in corridoio nel nell'androne tirano giù i fili di qua e di là andiamo giù dove c'è la scatola della fibra ah ma non c'è la fibra di vodafone qua da voi c'è solo quella di fast web di di telecom quindi vi ho detto vabbè la san perde e quando cambieremo casa metteremo la fibra e va bene va bene va bene fa hanno visto la foto del barone hanno visto la foto del barone ovviamente voglio fare quell'offerta ma la voglio fare ma non te lo posso dire se ti conviene adesso vabbiamo sta diventando una roba tipo ufficio reclami odo window al consumatore va bene servizio al consumatore esatto allora passiamo con il pesce più grosso ma in realtà con la cosa minore perché qui veramente c'è da ridere ragazzi oggi si ride allora ieri notte il nostro servizio telegram che mette in automatico le prime pagine dei tre quotidiani principali sportivi mette gazzetta mette il corredo dello sport che vabbè fa una considerazione su tiago motta il nuovo red del pullman il nuovo trapattoni lo chiama eh zazzaroni tiago motta il nuovo trapattoni va bene ci interessa il giusto ma soprattutto c'è il quotidiano di casa nostra tutto sport lo quotidiano degli juventini eccoci veri ovviamente attenzione questa è la prima pagina di oggi motta sotto osservazione di chi ma la cosa divertente attenzione non è tu dici beh allora se pareggia o perde col bologna è finita appunto no esatto a lei a tutta no leggiamo a sinistra cosa c'è scritto secondo olivieri juve bologna sarà studiata a coverciano per le dote per le dote dei tecnici perché sono bravi capito ma ora diventa un esame soprattutto per chi quindi non è che sotto osservazione perché lo voglio no caccia e sotto osservazione perché bravo che demone vacciato vera vacciato posso dire qui il click waiting di vacciato e veramente io non ci sarei arrivato questa è roba da direttori veri non da direttori dilettanti come me diciamola è vero confermo questa è diciamola tutta è così una mossa definitiva secondo poi hanno intervistato renzo olivieri che non so quanti anni abbia spero che stia bene però va bene va bene ha gotteggiato ha gotteggiato che foto ha messo con la lingua di fuori michael george sembra un po la foto sembra un po questo è molto insultante questo è molto insultante va bene e questo è stato diciamo l'antipasto 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 ma adesso passiamo alla ciccia perché te l'avevo promesso ieri volevo aprire il caffè con il signor tolomei però attenzione perché questo è grosso è fabio questo ci mette le mani in faccia ci rovina io vado in pace non è che io ho il fisico da sollevatore di coriandoli lo sai io proprio il fisico non ce l'ho persone muscolose mi fanno paura a me fabio paura però va detto tu dovresti avere più paura perché credo che sia di milano ed è più non si spreca a venire qua nel salento diciamo uno come lui io posso permettermelo eh esatto esatto allora scrive questo appena noi stacchiamo il caffè il signor tolomei vi ricordo allora facciamo una premessa dobbiamo essere un po di da scarici ieri vlaovic si è allenato in gruppo sarà sicuramente convocato per la partita col bologna probabilmente giocherà in titolare e quindi è una bella notizia ci siamo lasciati col caffè di ieri con questa bella notizia però c'è qualcuno che vuole darci dei retroscena su questo recupero di vlaovic e scrive questo eccolo qui dusan vlaovic è guarito non oggi e neanche ieri lui lo sa lo spogliatoio anche virmone adesso lo sappiamo tutti grazie per me lui lo sa lo sappiamo tutti adesso grande allora questo è un tweet criptico tu quando leggi questo tweet lasciando stare che lo scrive tolomei villani o chissà chi cosa capisci che l'infortunio di vlaovic non è mai esistito e che quindi probabilmente la sua assenza è dovuta a questioni tattiche o disciplinare sì ovvero che magari la famosa intervista che ha rilasciato il nazionale non è piaciuta ai piani alti della juventus e quindi tac a lei a tutta la sua famiglia tornando sempre indietro e quindi vlaovic è stato fatto fuori o addirittura un'altra versione potrebbe essere e vlaovic che si è sentito offeso detto sapete che c'è a lecce non voglio giocare per dire può essere una delle due se uno scrive questa cosa o la juve l'ha fatto fuori o è vlages che si è tirato fuori no sbaglio ragazzi in chat quando voi avete letto questo tweet non avete capito che c'è un problema tra vlaovic e la juve l'ha capita così esatto l'ha capita così anche un grande fan del signor tolomei uno a cui non sfugge niente guardiamo eccolo eccolo e gaetano gaetano non sfugge i conti iniziano a tornare eccoci eccoci porca puttana i conti iniziano e la signorina martina ma che significa qualcuno potrebbe spiegare giustamente e giusto certo martina è semplice mi sa che c'è eduto o invasi di cessione visto che non rinnova altre lettura immunizione dopo le dichiarazioni nazionale o magari entrambe quindi vedi che però gaetano giustamente questo qua io sono specifica specifica certo chi legge quel tweet di tolomei capisce questo ha avuto la mia stessa lettura quindi non è che voglio adesso per cularlo certo lui è sempre quando si tratta di queste cose qui è sempre prima linea sempre però ma attenzione non finisce qui non finisce qui perché poi tolomei fa main splaining dice adesso no ma che cazzo avete capito voi amici eccoci qua e leggiamo spiegazione di tolomei eccoci qua eccoci qua chiedo scusa alla cripticità che ha nervosito qualcuno non era mia intenzione mi spiego meglio dushan è guarito e anche finito il periodo di sicurezza è abile arrolabile quindi ora le cose sono tre gioca e siamo tutti contenti forza ragazzo che mi sembra un po' una roba da telefilm americano no vai campione vai campione forza ragazzo se non gioca è per scelta sua o del tecnico che mi verrebbe da dire e grazie al cazzo sì a meno che non sia squalificato che potrebbe anche essere scelta del trip dell'aia però non lo è quindi fatene pure ciò che credete come voi sono un tifoso qualsiasi se vi ho turbato i tasti in alto a destra danno un sacco di soddisfazioni suggerisco smetti di seguire e silenzia ma vi prego di non tediarmi con la frustrazione anonima povero tolomei vergognatevi avete tediato il povero tolomei lui non se lo merita lui ha da fare e non merita di essere tediato da voi che gli chiedete spiegazioni voi anonimi voi anonimi metteteci la faccia metteteci la faccia quindi questa è la questione ma dato che io sono un figlio di puttana io non tolomei io io sono un figlio di puttana ho retweettato ovviamente un ragazzo il signor gabri il signor gabri hz che mi segue lo seguo con grande piacere che il signor tolomei non è come dire non è uno che così ogni tanto la spara ma diciamo che abbastanza costante in queste cose parteggio da già dal 15 di agosto guarda che lettera qui non era iniziato il campionato 15 agosto 20 24 caro avvocato ti scrivo ma poi non ho capito può leggere l'avvocato tolomei una lettera metafisica poi la consegnerà una medium che la stefanova esatto la da la stefanova che poi la tramanda trappa adesso mando un letto avvocato sì 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 oggi oggi avvocato partita sofferta di juve oggi partita sofferta è l'avvocato che ascolta caro avvocato ti scrivo l'amministratore delegato della juve tifa toro e parla di vittorie che non sono più l'unica cosa che contano lavoriamo all'obiettivo di mercato stagionale da marzo e a ferragosto ancora non si vede la luce e no avvocato ecco miners non zidane un esubero mezzorotto del milan ovvero calulu sta chiedendo di parlare anche con i nostri magazzinieri prima di decidere se venire da noi tra l'altro spoiler poi calulu verrà la juve farà anche benissimo molto bene esatto lunedì c'è la prima di campionato e noi non abbiamo cinque sostituzioni in questo però va detto andando avanti diventerà pure peggio la situazione diciamo un po qui molto profetico qui molto profetico effettivamente qui sì molto profetico in lega contiamo meno della longobarda e siamo senza sponsor fino ad oggi però non è lo sponsor principale ok o meglio stavamo chiudendone uno che valeva più o meno un quarto del precedente ma poi è saltato anche quello il vocabolario tecnico del tifoso è ridotto a gaza cucinare demone aura gli abbonamenti allo stadio sono i più cari d'europa i tiktoker ci vanno gratis e forse rivedremo a breve dopo anni bandieri striscioni tamburi oggi però è una bella giornata perché abbiamo di nuovo un numero 10 a 19 anni e due gol in campionato ma ci crediamo tutti e sembra davvero l'ultima storia romantica di questo nuovo corso ora capisco che le cose importanti della vita siano altre ma se avessi anche un solo secondo per guardare giù e ungere due cervelli te ne saremmo eternamente un attello disperato a ungere i cervelli ma di che cazzo stai parlando veramente ma anche quella lì la questione dei dei tiktoker no cioè io le trovo veramente delle polemiche ma veramente di un'inutilità cioè ragazzi i tiktoker ci vanno gratis per un semplice motivo perché quello che loro fanno è divulgazione cioè poi comunque fanno video che hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni in cui ci sono giocatori della juventus strutture della juventus raga i tiktoker non ci dovrebbero andare gratis i tiktoker ci dovrebbero andare pagati perché ogni giorno fanno cronaca e fanno pubblicità alla juventus quindi questa è la parentesi poi immagino lui lui va anche a anche immagino anche ragazzi o ragazze di juventus immagino che vengano ehm come si dice invitate gratis al allo stadio quindi mi sembra anche questa una polemica inutile poi sottolineare che il numero il nuovo numero dieci eh ha solo diciannove anni e due gol in serie a è una cosa che vabbè lui poi sarà lui poi esce da esce dalla polemica virando sulla questione storia romantica però la polemica rimane anche lì cioè che il nostro numero dieci a diciannove anni e due gol in serie a eh Alessandro Del Piero quando non credo avesse ancora la dieci io con la memoria lo sapete quando Alessandro Del Piero aveva diciannove anni stava ancora nella primavera ha giocato qualche volte in serie ha fatto quattro cinque gol quindi non è che Del Piero a diciannove anni ci aveva già la dieci o ha fatto cinquanta gol e robe di questo genere quindi anche lì lo trovo abbastanza inutile sul tifo della squadra di Scanavino eh mi mi sembra anche quello non credo che fosse Juventino ma a prescindere da quelli che possono essere gli episodi del passato che fai bene a citare e tu hai giustamente citato Antonio Giraudo il punto è che eh il signor eh Scanavino Ferrero è del Toro Scanavino sì sì si dice Scanavino Scanavino eh Scanavino eh ha più motivi validi per sperare che la Juve vinca rispetto a tutti noi tifosi messi insieme perché quello se la Juve fa ridere perde il mestiere perde il mestiere noi no quindi il fatto che tenga anzi noi facciamo più views ma detta sta cosa esatto esatto quindi questi cazzi anche anche di quella roba lì poi vabbè su Copminers paragonato a Zidane anche lì sempre questo effetto nostalgia una volta arrivavano i giocatori forti ora arrivano i giocatori pompati tre anni fa giocava che stiano andando alla Juventus voglio dire sì ma detto oltre a quello e poi vabbè anche la questione di Calulu che giustamente un giocatore si vuole interrogare su quello che sarà che poi è anche lì noi non lo sappiamo se veramente Calulu si è fatto queste domande cioè raga noi sappiamo che in quella settimana lì ci hanno detto che Calulu chiedeva informazioni sulla sua eh diciamo utilizzabilità eh in campo da parte della Juve Calulu alla fine poi è arrivato magari questi magazzinieri gli hanno detto sì sì vai alla Juve va alla Juve quindi grazie ai magazzinieri però Calulu è arrivato e sta facendo anche bene quindi ma di quando era sto posto di agosto quindi questo era del 15 agosto del 15 agosto era ferragosto no ma io a me è venuto in mente a me è venuta in mente sta cosa che è un'imitazione che faceva Stefano Masciarelli adesso credo che sia uscito dai radar della televisione italiana di Gianni Agnelli quando ancora l'avvocato era in vita e non la so fare purtroppo quella R Moscia mi manca ma già la miseria però mi immagino che l'avvocato che uno che amava amava la vita cioè nel senso amava i divertimenti e i vizi della vita come giusto che sia credo che il 15 d'agosto non credo che questa lettera un po' d'amore ferito la potesse prendere in considerazione ecco mi limito a dire questo mi limito a dire che risponderebbe ma vai a che in modo un po' classista guardandolo dall'alto verso il basso ma risponderebbe risponderebbe così rispondo a se oggi a leggere x ci sarà l'ingaggio ma l'inciaggio quali l'ingaggio sì ma quale l'inciaggio ma non vedi che stiamo ridendo stiamo ridendo ma che è più calmo di così anzi 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 non azzardatevi a rispondergli sotto a questo tweet ridiamone qua fra di noi non offendetelo non alimentate shitstorm o robe del genere stiamo qua fra di noi ci facciamo delle gran risate fra di noi ma non offendetelo pubblicamente su twitter perché poi lì partono le shitstorm e sono cose che non si fermano più e sinceramente non ne vale manco la pena ci stiamo ridendo sopra e basta masciarelli al derby del cuore cioè alla mobilità di una po' effettivamente grande masciarelli intanto vediamo un po questa è la situazione a casa craft ma perché modi cambia orange is the new black ma perché io non capisco va bene salutiamo craft assolutamente direttore e birmore sono uscito da x ma no ma se la prendete sul ring vedere anche divertente basta prendere le cose con grande ironia da questo punto di vista certo se vi fate un po sangue l'importante guarda macmanus io ti dico la verità di quello che si legge su x queste sono cose che io non trovo nemmeno offensive o che nemmeno mi indignano cioè questo fa fa parte della discussione che c'è tra le tifoserie ma qui siamo ancora comunque nel territorio della sanità cioè non siamo ancora sfociati nella tossicità la tossicità è altra quindi per quello che anche vi dico non andate insultarlo non non mandatelo a fanculo perché ma perché non se lo merita dai ha scritto una roba un po così un po patetica facciamoci due risate fra di noi per il content e tanti saluti tanto scrivono craft e sotto osservazione da da olivieri anche lui sta valutando la connessione esattamente a quindi ne approfittiamo dato che craft ha un problema di connessione quale migliore connessione di team potrebbe aiutare questi problemi anche alla webcam io di questo però non si nulla non ti prete cosa ci sta a fare il direttore cosa ci sta a fare il direttore andiamo sulla pagina di juventus ufficiale eccolo qui c'è ufficiale spermi fermi fermi prima c'è una sub grazie pubblico per la tua sub grazie di voi vai 43 mesi 43 mesi di mortè grazie io lo vedevo il primo anno evidentemente il ragazzo ci segue in podcast tra l'altro ne approfitto per dare una buona notizia i podcast saranno sempre più importanti perché su youtube sapete che carichiamo il contenuto proprio per youtube del caffè e post partita da non so quando ma molto 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 rapidamente i podcast saranno anche su spotify editoriale la parte di youtube del caffè e post partita e non solo con l'audio anche col video su sui podcast quindi spotify ed apple podcast mi raccomando seguite già seguite no perché mi sa che ancora non si può seguire però vi do questo avviso e ringrazio ancora come ho fatto ieri Gabriele che ci sta dando veramente una grande mano da questo punto di vista ok allora 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 questa è la prima pagina del sì noi non vogliamo fare pubblicità veramente a parte di scherzi ufficiale questa è cronaca team e premium partner di juventus attenzione guarda però la leiman virmone nella fotografia non è lo sponsor che andrà sul petto e lo sport e lo sleeve sponsor esattamente e lo sleeve sponsor che andrà sulla manica non solo andrà sulla manica di quale formazioni della juventus te lo dico subito l'accordo prevede la presenza del logo team come sleeve sponsor sulle maglie della prima squadra femminile dell'under 20 maschile oltre alla visibilità in occasione delle partite disputate all'allian stadium della prima squadra maschile saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti dimmi che cosa vuol dire quest'ultima frase sinceramente non lo so c'è che cartelloni quando giochiamo in casa ci sono per esempio c'è una premiazione perché non lo so è calulo è stato il giocatore del mese team presenta il giocatore del mese della juve capito quelle robe lì quelle robe lì ecco saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive legate al mondo bianconero adesso poi il resto del comunicato sinceramente non mi interessa c'è la dichiarazione chiaramente istituzionale da parte di calvo di andrea rossini che il chief o ragazzi questa è una roba ormai posso dire diventano titoli da fantozzi però in inglese ma te lo leggo e il signor rossini è chief consumer small e medium e mobile wholesale market officer ci posso dire cavalier gran figli di putt a matz ladr era più credibile tradotto cosa fa questo dalla mattina alla sera gioca a golf gioca a golf gioca a golf fine fine della produttività di questo personaggio e qui sono le dichiarazioni istituzionali tu virmone dopo che tu hai letto questa notizia qual è la tua reazione la mia è sti cazzi che tiriamo su due soldi tiriamo su due soldi va bene così ma ma ci si parla di cifre no 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 non ci sono ancora le cifre non le sappiamo caro virmone questa notizia ha fatto scatenare l'indignazione del tifoso juventino dei social perché 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 c'è tempo libero perché nell'annus domini 2006 telecom non team poi è diventata team dopo telecom era invischiata nelle intercettazioni telefoniche per calciopoli col sior guido rossi che poi diventerà anche l'amministratore delegato della lega calcio della fgc scusami presidente fgc per mandare in via a juventus sostanzialmente fare le penalizzazioni eccetera ricordiamo esattamente una storia sì certo una storia sicuramente brutta noi non è che vogliamo rinunizzare sulla come dire non trage sul sul malessere che magari ancora tanti juventini provano nei confronti di una storia brutta che ci ha visto protagonisti dissanguati no da quella stagione con la serie b con i calciatori che abbiamo perso una squadra fortissima la dirigenza che eccetera eccetera però caro virmone io non seguo nulla di finanza però va faccio mente locale e telecom non esiste più diventa da team va bene ma questo interessa il giusto ma soprattutto team ha cambiato più consigli di amministrazione più proprietà rispetto a me che cambio le mutande settimanalmente o giornalmente cioè ogni giorno cambia il 5 per cento di team cambia mano quindi sono la proprietà la proprietà è francese adesso esattamente la volta il presidente il presidente di team o l'amministratore delegato era il signor tronchetti provera se non sbaglio uno dei no perché sono sempre state i prodottroni che girano poi tronchetti alla pirelli poi alla team ma adesso puoi protestare se non ti piace lo sponsor ma quella gente lì tra l'altro è anche scomparsa non tronchetti provera però sì per esempio non è più in questa terra per dire è con l'avvocato a leggere la lettera di tolomei e secondo te stanno ridendo insieme secondo me sì ma guarda questi perdoni esatto esattamente o te posso assicurare che è successo un casino te posso assicurare che è successo un casino io vi leggo semplicemente due cose la prima una puntualizzazione dell'ottimo in questo caso colpo gobbo che saluto lello che dice questo team sponsor juve ho letto di gente molto indignata ma né guido rossi né tronchetti provera sono più legati a questa multinazionale che è la stessa cosa che abbiamo detto anche qui e da diversi anni quindi perché questa indignazione io vedo già la risposta vedo già chi ha risposto credo che sia più piccolo di noi la stagione la stagione l'avrà seguita che aveva 8 anni ma lo spero c'è un complimento che gli faccio 8 anni 6 anni io 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 ovviamente non sono non sono il suo biografo ma però vorresti esserlo ma non credo che abbia più di 30 anni a vederlo fisicamente è 20 vedi 27 anni sì a 27 anni adesso quindi nella stagione di calciopoli quante ne aveva ragazzi a 9 anni non credo che tu possa non capire ma non te ne frega niente di chi siede al consiglio di amministrazione di una società per azioni cioè pensi a giocare al pallone sotto casa leggiamo la risposta del sior e del sior evole gioventino gai perché l'ennesima scelta che testimonia la crisi valoriale della juventus perché la team di ora è la figlia di scelte meschine fatte 18 anni fa la team di ora ne dubito ne dubito fortemente ne dubiti mi permette vai vai te vai te io dico questo ma con tutto veramente non voglio manco rantare ma che devo rantare oggi voglio ridere caro evre gioventino gai singolo deduco che tu sia leandro poi se quella scritto qualcun altro mi chiedo veramente scusa ma credo che sia leandro credo credo ma questa crisi valoriale della juventus esattamente se c'è e magari c'è esattamente quando nasce quando nasce nel senso tu fino a cinque mesi fa eri un dipendente di quell'azienda che non è la team la juventus quindi mi chiedo questa crisi di valori l'avevi ricordata in corso esatto era già in corso era già in corso o è arrivata dopo ma giusto per capire perché tu a differenza di noi che siamo dei poveri scemi hai un'esperienza diretta lavorativa in quell'azienda e poi racconto anzi ti invito ufficialmente lo faccio ti invito ufficialmente al caffè di live bianconera porca miseria per fare anche con la voce camuffata facciamo una roba tipo le iene sono un dipendente però non voglio sapere lo sappiamo che sei leandro però alla fine no sarebbe un poco va bene darò per dire per dire cosa non va in quell'azienda io lo voglio sapere perché essendo io un tifoso di questa azienda sportiva io voglio sapere cosa non va quali sono i valori o se fa qualcosa di brutto noi la boicottiamo subito come i panettoni qui si parla di crisi valoriale se adesso io scopro che che cavolo ne so che la juventus finanzia i giubbotti antiproiettive dell'idf è quello quello potrebbe essere quello potrebbe essere qualcosa che mi fa dire cavolo magari magari era meglio di no magari in questo periodo era meglio fare qualcos'altro però non stiamo non siamo su quel terreno lì siamo sul terreno in cui delle aziende devono raccogliere soldi i soldi puzzano a prescindere da dove arrivino e fanno schifo a prescindere da dove arrivano e la juve fa non fa altro che raccoglierli poi ripeto la serie a la team per molto tempo ha anche sponsorizzato la serie a quindi magari non direttamente ma indirettamente la juventus per giocare i suoi campionati ha usufruito già di sponsorizzazioni indirette ma sono sempre sponsorizzazioni della team della team poi se vogliamo giocare a quelli che sono ancorati al passato e che non lo so pensano che la team adesso ci fa dei bonifici falsi o ci fa dei dei ci dai soldi falsi ci dai soldi del monopoli non lo so esatto raga ma ricordi i tempi della tamoil i gloriosi tempi della tamoil cioè raga ma di che cazzo stiamo parlando che abbiamo fatto giocare il figlio di gheddafi abbiamo dovuto far giocare il figlio di gheddafi leandro forse eri eri giovane perché scopriamo che appunto se del 97 del 96 eri giovane ma la storia ce la studiamo tutta la storia ce la studiamo tutta perché se vogliamo fare quel giochino lì della telecom se vogliamo fare il giochino della telecom allora il giochino lo fai al cento per cento il giochino lo devi fare al cento per cento ovvero dalla juve nella juve nel corso dei decenni quanti soldi che magari arrivavano da contributi pubblici sono stati che magari erano indirizzati che ne so a coprire casse integrazioni robe del genere sono stati girati magari alla juve lo sappiamo no non lo sappiamo allora ragazzi cioè non è anche anche questa roba qua se te fai l'indignazione non la puoi fare a targhe alterne la devi far sempre la devi far sempre oppure prendi atto che viviamo in questo mondo che il mondo del capitalismo funziona così e non ti indigni nemmeno perché funziona così perché gli stessi che 18 anni fa ti hanno mandato team b oggi ti stanno dando dei soldi abbiamo chiesto risarcimenti per anni e alla fine questo ce li stanno dando dai cioè ma non è che ho descritto il pensiero dell'interista ho descritto il pensiero che se ti vuoi indignare non lo fai a targhe alterne non lo fai per la team e non per lo fai per tutto lo fai lo fai per tutto non che siccome che nel sentiment di un certo tifoso juventino soprattutto quelli che hanno superato i 35 anni c'è questo sentiment la team moratti tronchetti provera eccetera eccetera ma perché devi giocare su sta roba o ti indigni per tutto o ti indigni per tutto e quindi ti va bene solo save the children oppure sta roba qua perché ogni sponsor ogni sponsor avrà degli scheletri nell'armadio perché ma anche azimut ma guardate un po che cazzo fa azimut ma se domani ci mettono aramco qua ma guardiamo a vedere cosa fa aramco devo aprire la porta vai vai tranquillo vai tranquillo e quindi è questa la situazione ma ripeto caro leandro io faccio un appello se tu questi valori della juventus della juventinità li vedi calpestati e hai un'esperienza diretta di valori sportivi della juventinità calpestati mentre lavoravi per juventus questa piattaforma ti ospita e tu puoi raccontare tutto irraccontabile confrontiamoci sui esatto confrontiamoci sui contenuti c'è colpo gobbo in in cioto lo saluto se parliamo di valori a quel punto non possiamo avere radio da sponsor tecnico perché i fratelli d'assler erano iscritti al partito del baffetto avevano la tessera aiuto io mi sento male ma è vero ma è vero perché se te ti metti a fare poi ripeto lo puoi fare perché lo puoi fare di metterti lì a sindacare sugli sponsor sull'etica della galassia aziendale che circonda la juve lo puoi fare ma se lo fai lo fai al cento per cento non solo in quelle robe che fanno rivivere dei ricordi a certi tifosi e quindi sono polemiche che ci hanno il click facile il like facile no non funziona così se lo fai lo fai per tutto andiamo a vedere cosa fa l'adidas andiamo a vedere la storia dell'adidas andiamo a vedere eh appunto jeep che cazzo faceva negli altri anni jeep vediamo un po' se quanti quanti quanta gente avrà licenziato stellantis negli ultimi anni ma ma sarà meglio di quella roba lì quindi ora o lo fai su tutto o non lo fai si aggiunge a questo coro di indignazione anche qualcuno che è più stagionato e non è attenzione non è un'offesa e niente anzi se li portano bene voglio dire casa juventus o ripeto non è colpa io oggi la voglio prendere a ridere non voglio manco non mi sto manco arrabbiando la voglio prendere e giocare perché è un giovedì e tanto contenuti di campo oggi non ce ne sono tantissimi intanto vedo una sedia vuota che è quella del seer craft che sicuramente non avrà team come connessione perché la sua connessione fa cacare oggi allora il signor michele fusco il tweet non ce l'ho ma aveva scritto e adesso mettiamo pure pirelli così non so se quanto fosse battuta e quanto fosse no io credo che fosse anche una battuta ma qualcuno magari quella battuta la presa sul serio craft dimmi se posso mandarti in onda in questo momento non mi sente bene vi rilancio il contenuto questo qui eccolo qua si ornevio a quella battuta eccolo qui risposi a nevo capella di juventibus cancella che a quanto pare ti cagano il cazzo anche questa storia qua che due coglioni scritto scritto che due coglioni michele risponde io sono ancora incazzato l'incazzatore aumentato da tre anni a sta parte se qualcuno andava va e andrà tutto bene è un problema suo ma il nevio continua perché tre anni che è successo nel 21 per la roba non nel 21 della roba del di chi ne è le plus valenze quindi altre intercettazioni cose ok ok ho capito capito giornedio è a me solo leggere certi nomi ad esempio team si riaprono ferite mai chiuse rimonta una rabbia e una voglia di fare una mezza strage mi risposto che molti dei frequentatori abituali di questo social nemmeno possono immaginare l'epoca andavano all'asilo quindi qui però la differenza di età c'è qualche certo la rimarca lui la rimarca come se non fossimo ancora freschi di uno stupro lo io mi dissocio chiaramente due anni dovrebbero essere sufficienti a dimenticare come se ogni giorno non avesse non arrivasse un'altra mazzata epocale alla dignità il supporto a gravina il dietro fronte la super super lega che lini membro dell'eca ieri ne abbiamo parlato i complessi sto cazzo questo è capello si foga juventus non lo so non so cosa dire mi dispiace se la gente la prende in questo modo questi non sono secondo me temi così seri da poter reagire in questo modo ma io vedo che intanto anche virmone mi sa che lo stiamo perdendo sta un po laggando la sua immagine non è perfetta craft dimmi se ci sei craft niente oggi non vedo più nessuno virmone ci sei forse non vedo ok cosa pensi di questo sfogo amaro invece caro virmone ma io penso che siano parole lanciate così senza neanche rifletterci più di tanto prima di scriverle perché io ad esempio io questo questo qua sto nevio non non so chi sia ok chi è è uno di non so se ci va sempre però è stato nel new venti ma 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 senza nulla toglie ragazzi non c'entra niente no 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 ma era solo per farmi un'idea cioè sera cioè sera appunto lui o se era un utente random no era solo perché volevo capire questo ma allora fabio c'è io l'unica cosa che ti posso dire è questo non conoscendo il pensiero di questo ragazzo se se questa persona si è lamentata negli scorsi mesi negli scorsi anni di avere non sto dicendo che l'abbia fatto è io sto dicendo questa cosa perché molti tifosi lo hanno fatto poi ditemi voi se uno di quelli che l'ha fatto io non lo so però è uno di quelli che si è lamentato del fatto che la juve abbia poco peso politico ok ora con grande fatica un potere politico la juve sta cercando di riacquisirlo con l'abbiamo visto no chiellini alleca eccetera eccetera quindi ripeto ripeto questo è il pensiero di un tifoso però è il pensiero di un tifoso che probabilmente è legato a un'idea di calcio che ancora non è diventato industria e che quindi può permettersi un certo tipo di etica e un certo tipo di morale ora il calcio è cambiato il calcio è un'industria lo era già ma lo è diventato ancora di più il calcio è politica lo era già ma lo è diventato ancora di più quindi la trovo francamente fabio io non le condivido questo questa tipologia di polemiche lo sai non le condivido faccio anche fatica a capirle io non voglio entrare nello stato d'animo di questa persona ci mancherebbe altro ognuno pensa quello che vuole ognuno fa quello che vuole siamo tutti contenti poi però ripeto la trovo veramente la trovo veramente un po un po superflua rispetto a quelli che possono essere veramente i temi oggi perché oggi per la juve è meglio se chiellini sta lì piuttosto che stare a casa è così raga c'è poco da dire c'è poco da dire avreste preferito avreste preferito non abbandonare la superlega che tra parentesi ufficialmente non è ancora stata abbandonata a parte che non c'è però ufficialmente non è stata ancora abbandonata perché ce l'hanno detto ma non è vero quindi avreste preferito continuare con la superlega e magari prendere tre o quattro anni di squalifica dalle coppe europee perché perché non avevamo protezione in quel momento e ricordatevi sempre ragazzi che se la protezione non ce l'avevamo in quel momento è perché la persona che doveva proteggerci e che era arrivato a sedersi là dove potevamo essere protetti ha deciso di cominciare a ignorare la juventus mettersi a braccetto con il suo amico florentino perez florentino perez per creare un progetto alle spalle alle spalle di chi era padrino del suo infante o viceversa bravo grezzi quindi in sostanza noi abbiamo avuto un presidente che stava facendo che stava facendo bene per la juve ha fatto un sacco ha fatto un sacco di cose buone per la juve soprattutto è vero è vero ragazzi è vero cioè nei primi dieci anni della della dirigenza andrea agnelli ma che cazzo gli puoi dire dei nei primi sette otto che cosa gli puoi dire niente non gli puoi dire niente arriva a fare il presidente dell'eca e anziché e anziché forse forse circuito da florentino perez che lo ha usato come come ariete cioè vai avanti te vai avanti te così la merda te la prendi te può essere può essere ma quell'errore lo ha commesso e se tu sei presidente dell'eca non puoi di nascosto metterti a tramare per creare una competizione che va a fare da concorrente alle robe che tu stai rappresentando ora quindi il peso politico ce l'avevamo e lo abbiamo perso noi da soli lo abbiamo perso noi da soli ora sicuramente con persone meno scaltre perché è indubbio che andrea agnelli sia una persona più scaltra in certi ambiti rispetto a scanalino e ferrero ma stiamo cominciando a cercare di riottenere quel potere come ci siamo fatti un anno fuori dalle coppe abbiamo dei paletti da mantenere per quanto riguarda il bilancio e cose del genere però pian pianino mettiamo eh chiellini qui che è già la prima calma lo stiamo reacquisendo ma il punto è che stavolta non ci ha fatto fuori nessuno stavolta ci siamo tirati un calcio nel sedere letteralmente da soli da soli sono d'accordo ringrazio la sab di jabari grazie mille la sab numero centodieci di questo con amazon prime chiedo un attimo di pazienza craft tra poco lo faccio entrare a questo punto terminiamo il contenuto per youtube eh con le ultime riflessioni ce n'è una di buzzer che è un nostro moderatore nonché una mente pensante guarda pure i complimenti li faccio che è questa e poi te la voglio fare una io virmone base scrive virmone tu li fai più intelligenti di quanto sono questo è il suo questi sono agnigliani che volevano una superlega se le fottono dei valori etici morali se domani la juve firma con l'azienda con la peggior fama del mondo per tanti soldi stappano non ho dubbi ma per quello ma oscar è per quello che io ti dico o lo fai sempre o non la fai mai perché non è che l'etica la morale funziona nei giorni pari nei giorni dispari no 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 se te fai quel discorso lì per me lo devi fare sempre con tutti con tutti lo devi fare non capito certo poi hai ragione sul resto del sul resto del commento hai perfettamente ragione cioè non è che li faccio più intelligenti è che dico la mia cioè io se devo fare una critica su una scelta morale etica non la faccio solo perché diciotto anni fa nella team c'erano tronchetti provera e moratti la faccio a prescindere ma dato che se la fai se cominci a fare questo discorso non finisci più perché cominciamo a vedere cominciamo a vedere dove dove fanno le magliette quelli dell'adidas c'hai capito cominciamo a vedere quanto sono pagati gli operai che cucciano le magliette non finiamo più raga non finiamo più e allora che senso ha e l'ultima riflessione la faccio io e chiedo anche a te un parere che perché questa darà poi il titolo per youtube di questo estratto ma queste persone non non è un'accusa ragazzi è una domanda filosofica quasi la juventus intesa come squadra più che come società piace perché l'impressione che ho io andando avanti negli anni questi anni con tante polemiche con tante divisioni al suo interno l'impressione che ho io che a queste persone ripeto non è una patente ma proprio una questione filosofica la juventus non l'interessa più di tanto ma l'interessa la juventus di tizio caio e sempronio non la juventus come concetto quasi universale cioè queste persone secondo me questa juventus qui non la riconoscono non non pensano che sia la juventus banalmente capisci ma ma d'altronde allora io ovviamente non parlo di 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 questo nevio no perché scrivono in chat ma no ma no ma no ma no ma generalizzate il discorso mio no però però fabio ad esempio con un leandro con un leandro io questo discorso lo posso capire perché leandro c'ha 27 anni ok quindi quando agnelli è arrivato alla guida della juve ce ne avrà avuto 16 15 capito e quindi è normale e poi è la persona che gli ha dato un lavoro è la persona che gli ha dato un lavoro quindi magari non proprio lui però no certo non proprio lui però leandro si è trovato a lavorare su twitch per la juve quando in cima alla juve c'era andrea agnelli quindi io non è che ti sto dicendo cioè in un percorso di un ragazzo giovane io lo posso ancora accettare che tu che tu non abbia ancora bene assimilato che le facce cambiano e che oggi ne hai 28 e hai visto queste facce cambiate a quelle facce e quando ne avrai 40 ne avrai viste delle altre ancora perché fra 12 anni non ci saranno più scanavino e ferrero capito saranno in pensione o saranno a farsi la bella vita non ci saranno più le facce continueranno a cambiare come cambiano le facce dei giocatori quindi su su un ragazzo che a meno di 30 anni lo posso ancora capire perché si deve fare perché deve ancora rendersi conto che quelle lì sono case perché quando si dice quando si dice anche un po poeticamente le persone passano la juve resta vuol dire proprio quella roba lì un corso naturale vuol dire proprio che è quella roba lì cioè ragazzi ma tipo ma che cosa significa è come se io che ho la mia età e quindi a differenza di leandro che è cresciuto con la juve di andrea agnelli io sono cresciuto con la juve di umberto agnelli con la triade e io e dico ma no ma io vorrei ancora moggi poi guardi moggi c'è 86 anni non ci sta più dentro è ovvio che non ci sia più lui ed è ovvio anche che ed è ovvio anche che ci saranno dei dirigenti degli allenatori dei dei giocatori che ti deluderanno perché ci sa perché nessuno sta dicendo che scanavino e ferrero ci faranno vincere della champions league ok magari non ci faranno vincere un cazzo riesci a immaginare con un flash intuitivo una tribuna stampa con la coppa dalle grandi orecchie dietro il nuovo capitano non so chi sia e poi c'è scanavino e scaravino e ferrero te la riesci a tornano loro a torino con la coppa dall'aereo scendono in aereo giocano a carte con ildiz che c'ha ildiz che avrà 30 anni ormai meraviglioso meraviglioso 30 anni e 6 gol con la maglia della juve e no basta tutto qua tutto qua cioè ripeto leandro leandro deve leandro deve capire che che i valori della juve non vengono misurati dalle persone che ci sono dentro ma dalla continuità che il brand continua ad avere negli anni e se la juventus nonostante quello che è successo nel 2006 nonostante quello che è successo nel 22 è ancora lì è ancora uno dei brand più famosi al mondo per quanto riguarda il calcio grazie juve questo conta ragazzi questo conta quindi ci lasciamo con questo messaggio di la copertina giramela che te la mando al volo famola subito la copertina per questo contenuto eccoci qui sorridi caro perfetto te la mando subito sul redazionale caro di mone niente ti saluto e ti saluto saluto craft dietro le quinte saluto te ciao ci vediamo domani ciao ragazzi perfetto ragazzi noi ci sentiamo tra un minuto e 0 8 secondi cara youtube lascia un commento un like attiva la campanella delle notifiche in più abbiamo un canale telegram a cui dovete iscrivervi in questo momento proprio in questo istante quando io starò dicendo queste parole che è live bianconera channel per il resto della ciurma ci vediamo tra un minuto e 0 8 secondi perché c'è anche craft attenzione grazie a tutti